Una squadra che a cuore ha dimostrato anche questa sera, in vista di Ceglie direi che ci sono le premesse per portare un gran numero di tifosi, ho sentito che stanno organizzando addirittura un pullman. Sì, stiamo organizzando, raccoglieremo le adesioni durante la settimana presso il Palazzetto dello Sport, vorremmo essere numerosi e stare vicini a questa squadra che lo merita, anche questa sera ha dato dimostrazione di grande attaccamento, nel momento difficile è venuta fuori e ha ottenuto un grande risultato contro una ottima squadra. Una squadra che è venuta convinta e merita forse i punti, merita qualcosa di più, questo fa merito alla nostra squadra in previsione di incontri ancora più difficili. Bene, l'appuntamento allora per gli sportivi Campobassani è per il 15 febbraio quando riceveremo qui in casa il Taranto, intanto domenica c'è la partita con Ceglie, non sappiamo com'è finita con il Martina, però possiamo pensare a qualcosa di più grande o no? Sì, tra l'altro vorremmo poter riscattare la sconfitta a beffa di un punto accusato all'andata e sicuramente per noi sarà la partita chiave che ci dirà dove possiamo arrivare. A domenica.